Il terzo canto è intitolato Gerusalemme, è una canzone anche in omatis dal luogo sacro in cui ci troviamo oggi. È un brano che racconta la passione di Cristo e il dolore di Maria nella notte in cui Gesù fu progettivo sul Monte Carvalho. Gerusalemme viene definita una città perduta dal cuore maledito perché ha permesso di proprio i suoi abitanti, ha un permesso che appunto amministra la percepizione del Cristo. È un canto forte, pieno di emozione che viene espressa dai cambi sentimenti, forti, piano, nella condolazione della voce. L'autore è Bergine Marzi che richiama con questo canto gli uomini alla riflessione e alla responsabilità delle protezioni. Gelosamente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.